Mazzoli attenzione, è a un passo dal completamento del puzzle Attenzione E il finalista è Mazzoli Bravo, bravo Bravo Andrea, bravissimo, bravissimo, bellissima gara, bellissima gara Brava anche Alessandra e Cristina Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, 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 bravo Alessandra Marco, complimenti, questo era un applauso per tutti E tu sei il terzo finalista di questa edizione dell'Isola dei famosi Chi l'avrebbe detto? Nessuno Dai, bravo Tuffati